Crisi degli affitti e difficoltà di accesso. Sono le gallerie quelle a soffrire più di tutti a Cesena del calo degli esercizi commerciali, una piaga che negli ultimi anni ha visto molti commercianti costretti ad abbassare le serrande non potendo più sostenere i costi della gestione dei negozi piegati dalla crisi dei consumi. E se, nelle vie più trafficate del centro, molti piccoli esercizi privati sono stati sostituiti dai negozi delle grandi catene commerciali, così non è stato per chi si trova in luoghi meno frequentati dalla circolazione pedonale. Parliamo della galleria Isei di Cavour e Oir, che hanno ormai perso da anni il loro appeal commerciale, finendo per diventare luoghi pressoché disabitati, con pochi negozianti che cercano in perterriti di tirare avanti. L'unico dato positivo è quello della galleria Urtoller, che data la posizione particolarmente favorevole a ridosso di piazza Fabri, vanta ancora un buon numero di vetrine storiche, ma per tutti gli altri la situazione appare desolante. Che fare quindi se lo chiedono le associazioni di categoria, che oltre ad auspicare un livellamento dei canoni d'affitto, puntano sulla riqualificazione. Le gallerie in difficoltà hanno bisogno di essere ridefinite, afferma il direttore di Confesercenti Graziano Gozzi, per riacquisire un'anima e riempire gli spazi, magari valorizzando i settori dell'artigianato e dell'arte. Il problema, in ogni caso, non è passato inosservato da parte della Giunta Comunale, che ha commissionato un'indagine volta a migliorare la ricettività del centro e, nei tempi a venire, dovrà ragionare sull'abbellimento degli spazi e sul reperimento di fondi per i nuovi lavori.